il 2018 per voi per tutti voi è un anno particolare 28 febbraio del 1968 santa maria ha cambiato in nome proprio per omaggiare questo frutto a santa maria del cedro il 28 febbraio del 2018 ricorrono 50 anni questa pianta è piena di spine queste spinne a volte che ci impungono rimangono nel sangue e ce le portiamo vita eterna di generazioni in generazione è buono se c'è il cedro certo ma il cedro di più cedro deve essere quello di santa maria perché è particolare benissimo benissimo a noi ci piace anche dire che il gelato è senza tabù nel senso che le paure delle mamme delle polverine piuttosto che altre cose non esiste secondo la bibbia il frutto dell'albero più bello era anche il frutto che eva diede ad adamo se riuscì a tentare ad amo e il serpente tramite questo frutto eva significa che questo frutto era bellissimo e resistibile